È stato presentato a Siderno presso il Mondatori Book Story, il libro Il viaggio delle nuvole di Giusi Staropoli Calafati. A dialogare con l'autrice furono presenti Rossella Scheri, Donenio Stamile e Isidoro Napoli. Il romanzo, edito la ruffa, racconta di una storia d'amore, l'amore per la propria donna, il proprio marito o per il proprio paese. Che non conosce la diversità della pelle non si ferma neanche di fronte a ciò che sembra un muro insormontabile. Il volume che si apre con l'introduzione di Donenio Stamile, referente regionale Libera Calabria, parte dalla storia di Lucano, come innesco narrativo per condurre il lettore in un viaggio meraviglioso nel quale scoprirà appunto dove vanno le nuvole. Giunge in libreria in un momento delicato per la cittadina della Locri, De Riace, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il primo cittadino. Racconta dunque di una rinascita, di un cambiamento, di uomini e donne che hanno voglia di farcela e di un paese che non vuole morire. Allora, intanto Il viaggio delle nuvole è un libro, è un romanzo che è ambientato a Riace. Perché Riace? Perché Riace penso sia effettivamente un viaggio, un viaggio da fare, un viaggio che grazie a Mimmo Lucano, nel mio libro Mimì, Mimì il curdo per tutti, è un viaggio indispensabile. Che a Riace in sé porta, ha fatto così prendere un grande vizio secondo me, che è il vizio della speranza, che è una cosa straordinaria. Per cui ho incontrato questa Riace durante un mio percorso e mi sono detta una storia bellissima, una storia da raccontare, che tutti devono conoscere. Un libro che poi viene pubblicato in un momento difficile, tra virgolette, diciamo così. Ma è importante che la gente sappia, conosca da tutti i punti di vista che cos'è Riace. E oggi Riace secondo me ha la forma del cuore. È un libro particolarmente interessante perché ci racconta sotto forma di romanzo la storia di Riace. È una storia che è di attualità, quanto non mai, mai come oggi, viste le vicende che hanno riguardato appunto Mimmo Lucano. E che stanno riguardando Mimmo Lucano. È un romanzo che ha saputo cogliere lo spirito, la visione, il sogno di Mimmo e ha saputo raccontarcelo attraverso anche questo suggestivo titolo che è Viaggio delle nuvole. È un romanzo che contiene non solo la storia di Mimmo, ma anche diverse storie particolari, con diversi protagonisti. Per cui vale la pena leggerlo perché ci conduce appunto nel cuore stesso di questa visione che è opportuno raccogliere, comprendere e poter testimoniare.